Ok ce l'abbiamo fatta, ok e ora resta dentro eh, o ti becco dappertutto eh, ti smangiucchio le caviglie porca di quelli per porca E dentro dentro dentro, veloce, veloce, tira la cosa, tira la cosa, perfetto, 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 chiusa dentro Salve a tutti, sono TheGamer e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi ci testiamo quello che potremmo definire il gioco più originale di tutto il 2019 E un tranquillo sabato mattina, per me stavo sfogliando il catalogo dell'Epic Store per trovare qualche nuovo gioco da portare sul canale Quando un titolo in particolare ha colto la mia attenzione, il gioco si chiamava Untitled Goose Game Che tradotto dall'inglese significa gioco senza titolo a proposito di un'oca E indovinate un po' noi chi siamo? Siamo un'oca! No ragazzi non sto scherzando, hanno fatto Oca Simulator Ma questa non è un'oca normale, perché quest'oca dovrà andare in giro a rompere le balle alla gente No, non sto scherzando, dovremmo rovinare la vita degli abitanti più tranquillo, villaggio Facendo gli scherzi e facendo in modo che si facciano male e anche altro Allora, vediamo di capire come funziona il gioco Con la A posso correre, ok LT per piegarti in avanti, ottimo E da quello che ho capito possiamo interagire con un sacco di oggetti Li possiamo attivare o addirittura penso raccogliere Ad esempio voglio raccogliere questa lattina e la possiamo portare in giro Oh mio Dio, guardatelo Cioè anche solo l'animazione dell'oca è bellissima No, no, aspetta Dobbiamo trovare qualcuno a cui rovinare la vita quanto prima Allora, prima di tutto dobbiamo aprire questo cavolo di cancello Allora, tira questo Oddio Qua viene giù tutto Facciamo attenzione a cui mi posso abbassare E tirare anche l'altro blocco Levati, levati, fai attenzione No, no, che non è venuto giù Giuro, era così anche quando sono arrivato Perfetto Questo cancello ci bloccava dall'entrare all'interno del villaggio Con RT possiamo battere le ali Ma davvero ci sono tutti i comportamenti delle oche No, ragazzi voi non avete idea Io ho vissuto per parecchi anni In parte al mio vicino di casa Che era una persona che aveva 8 milioni di animali Oche, galline, gatti, cani, canarini, pappagalli, conigli E erano tutti dannatamente rumorosi Pure i conigli, no, non sto scherzando Ma soprattutto le oche Tutte le notti alle 1 e mezza ci potevi regolare l'orologio Iniziavano a starnazzare come non ci fosse un domani Svegliando praticamente tutto il vicinato Ora capite il mio odio per le oche Questa volta però l'oca sono io E posso rovinare la vita alla gente Allora, vedo che qualcuno si è organizzato per un bel picnic Ma io glielo rovino subito Trascinandogli il cestino in acqua Ecco qua Ma soprattutto, dato che il Delonghimer non ha pranzato E adora i tramezzini Se io non mangio Non mangio neanche gli esseri umani Ecco qua che glieli annaquiamo come non ci fosse un domani Come ho detto sono un oca bastard da dentro Gli lascio la mela Così almeno si mangia un pochettino di vitamine Ma c'è una lista di cose che dobbiamo fare Per poter passare ai livelli successivi Dobbiamo entrare nel giardino Bagnare il giardiniere Rubare le chiavi del giardiniere Far sì che il giardiniere si metta il cappello a testa larga Lancia il rastrello nel laghetto Perfetto E dobbiamo anche organizzare un bel picnic Dobbiamo portare alla coperta per il picnic I sandwich, la mela, la zucca, la carota, la marmellata Il termos, la radio e la cesta Uuuu Che vuol dire che dobbiamo davvero rovinare la giornata a un giardiniere Signor giardiniere Ok, è arrivato, è arrivato Salve signore, buongiorno, scusi Potrebbe aprirmi cortesamente il cancelletto? Le vorrei parlare di nostra signora Nonna Papera E se vuole può anche abbonarsi per tutto l'anno A Oca 2000 È una rivista interessante E in omaggio le diamo il gioco dell'Oca Che dice? No, mi ignora e continua a bagnare i fiori Ehi, ciccio Sono qua, un po' di attenzione me la vuoi dare? Come vado via? Come vado via? Porco cane, dobbiamo trovare un modo per entrare là dentro Allora C'è un tubo dell'acqua qua fuori E possiamo attivargli il rubinetto Perfetto Così dovremmo riuscire ad attirare la sua attenzione Ottimo e ci ha aperto il cancello Ah 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 Il mio piano malvagio ha funzionato Ehi, ehi, vieni qua a dimmi le cose No, che mi mandi via E io ti rubo le chiavi Aspetta, aspetta, aspetta Dovremo riuscire ad afferrargli le chiavi Ok, eccolo che sta tornando indietro Facciamo finta di nulla Prese le chiavi Prese le chiavi Non mi puoi fermare E ora posso anche entrarti nel giardino Perfetto E possiamo arrecare devastazione come non ci fosse un domani Allora, facciamo una bella cosa Le chiavi Le ne nascondo qua Così non le troverà mai più Ma soprattutto Anch'io mi posso nascondere Mi domando se tenterà di buttarci fuori Quando ci vede all'interno del giardino Salve signore Che piacere Sono venuto a darle una mano Lo vuole ancora il gioco dell'oca? Chiaramente non lo vuole Ah, a quanto pare lui si continuerà a lavorare sul giardino Sarebbe un peccato se qualcuno gli rovinasse tutto il lavoro Ma che peccato Ma che belle carottine Ma le do una mano a raccogliele Ma aspetti mezzo secondo Che sono molto giardiniere anch'io Eh, guardi qua che bravo che sono Anzi, faccio la brava persona E gliele metto nel contenitore Beh, più o meno Ecco qua, guardi Oh no, si è accorto che gli abbiamo rotto il fiorellino C'è rimasto malissimo Ma quanto mi dispiace, signore Guardi, proprio tanto tanto, eh Sarebbe un peccato se glielo rubassi di nuovo Oh, peccato che questo non è un obiettivo secondario Il direttore te lo nascondo Porco cane più veloce di me Porco cane più veloce di me Mi ha preso, mi ha preso, mi ha preso Ok, ok, le lascio il fiore Le lascio il fiore, si può divertire Allora, vediamo cos'altro c'è all'interno del giardino Allora, qui abbiamo la marmellata e il termos Che dobbiamo portarci via per il picnic Qui possiamo anche aprire il rubinetto Vediamo se riusciamo a farlo bagnare un attimino Ah, quanto pare no, purtroppo Qui abbiamo il cappello di paglia Che dobbiamo fargli indossare Però lui ha già un cappello Quindi dovremmo cavagliere in qualche modo E il rastrello Che possiamo già portare al laghetto Vediamo un po' se ce la faccio Veloce, veloce Sto arrecando devastazione No, la, mi, mio rastrello Porca, la, lasciami il rastrello Porco cane, sei più forzuto di me Per questa volta ti va bene Allora, credo di aver capito come farlo abbassare Per togliergli il cappello Ho visto che lui si inginocchia Quando prova a ripiantare il fiorellino Se sono abbastanza veloce Dovrei riuscire a rubarglielo Preso, 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 preso Ok, ok, veloce, veloce Lo devo portare al lago Lo devo portare molto velocemente al lago In modo tale che magari Riesco anche a farlo bagnare Più veloce, più veloce Non mi raggiungerai mai Ecco qua, perfetto Il cappello fortunato Ma soprattutto Fai bagnare il giardiniere Ecco qua, ottimo No, lo va a riprendere Anche se è bagnato No, 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 aspetta Lo prendo io Lo prendo io Lo prendo io Non mi... No, 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 no Corrigo io più Porco cane, mi è caduto Te l'ho ripreso Te l'ho ripreso Sono veramente una testa di minchia Come Oka La devo nascondere da qualche parte Lasciami stare Vai via Vai via Ci sono altri cappelli in casa E porco cane Oka glielo ho ripreso di nuovo Solo che stavolta lui non può entrare Da questa parte del laghetto Quindi ora possiamo nasconderglielo Tipo qua in fondo E lui sarà costretto ad indossare l'altro cappello Ah 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 Il mio piano malefico sta prendendo fu... No, non puoi averlo visto L'hai perso L'hai perso L'hai perso E adesso come potete vedere È costretto Ad andare a indossare il cappello di paglia Ah 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 Allora nel frattempo Mi posso anche organizzare Per il picnic Mentre scorrazzavo avanti e indietro Ho visto che da questa parte C'è effettivamente la coperta Dove possiamo mettere tutto quello che ci serve Tra cui il cestino I due tramezzini Anche se saranno un pochettino bagnati Ma vabbè Alle ocche il pambagnato piace Non è che ci sono problemi E ho completato l'obiettivo Far sì che il giardiniere Si metta il cappello Nel frattempo Perfetto Il problema è che dovrò rubare al giardiniere Un bel po' di verdura Per il mio picnic Dicesi la carota E anche la zucca Per mia fortuna Questo tizio ha verdura In quantità industriale Devo solo evitare che mi noti Perfetto Carota rubata Mentre invece le zucche Erano da questa parte E sono decisamente Molto più grandi e pesanti Diamoci una mossa L'ho visto andare In fondo al giardino Quindi in teoria Ebbe inseguire Eh vabbè Eh vabbè Sono l'oca più stelte Che sia mai esistita Santo cielo Zero zero ocap Chiamatemi praticamente Ecco qua E la possiamo mollare Direttamente qui sopra Ottimo Ci manca ancora la marmellata Il termos E la radio Allora la radio Era in parte Al cancelletto Ed era effettivamente Sopra i sacchi di concime Non è che mi serva Un sacco di concime Ma meglio abbondare Aspetta aspetta Vediamo se ricordo afferrarla Ole Signore salve Le serviva questa radio Buongiorno Oh oh Si è incacchiato Si è incacchiato Non l'avrai La radio è mia Voglio solo un po' di musica Sono un'oca moderna E ora ti bagno la radio Oh Adesso la musica Non l'ascolta più nessuno Si è rovinata la radio Ok in teoria Adesso me lo dovrebbe lasciare Molla qui la radio Perfetto No Vieni a rubarsi la zucca No 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 Dobbiamo distrarlo Ridami tutto Ormai l'ho rubato io Ormai l'ho rubato io Non rompere le scatole Guardami qua Guarda di qua Ti rubo Guarda che ti rubo il sacco Guarda che ti rubo il sacco Guarda che ti rubo il sacco Uh mio dio Mi stanno rubando il sacco Ma che peccato Perfetto Allora Fintanto che è distratto Con i sacchi Posso anche rubargli La marmellata Certo che sono un'oca Che si tratta davvero bene Ho un'alimentazione Davvero molto bilanciata Aspetta che non mi hai visto Non mi dire che ci sta riprendendo Ui ui Non ti riprendere le cose Ma mi incacchio tantissimo Vai via Cicciolo Sei molto furbo Guarda che la posso rirubare Non è che mi faccio Troppi problemi Non ho di meglio da fare Quest'oggi Perfetto Ora l'ho distratto Rubando una carota Ottimo che posso mollare lì E nel frattempo Gli ciulo anche il rastrello Non puoi riprenderti tutto Veloce No ho molato la carota Speravo di essere più furbo io E allora ti ciulo il termos E allora ti ciulo il termos Via Ok questo non l'ho visto per fortuna Volevo solo godermi Un tranquillo picnic Rubando le cose agli altri E la gente si offende Olè Fare un picnic obiettivo completato Anche se lui si riprende gli oggetti Non ci sono problemi E abbiamo sbloccato anche un nuovo obiettivo Far sì che il giardiniere Si dia il martello sul pollice Non ci sono problemi E che volevo buttargli anche il rastrello Nel laghetto Ormai è diventata una questione di principio Ah quanto pare vuole appendere un cartello Ha vietato l'accesso alle oche Aspetta aspetta Forse lo possiamo distrarre Quando sta per dargli una martellata Vai Vai E ora Vai 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 Si è tirato una martellata sul dito Signore tutto bene Direi che per lei è una pessima giornata Olè E io ne approfitto Per rubargli il rastrello Veloce 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 Corri 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 che distratto Porto cazzo nelle carote che mi bloccano No Il rastrello è mio Ma io sono un oca furba Gli ho rubato una carota Lui si è distratto E adesso affogherò questo rastrello È una questione di principio Io una volta avevo una cornacchia Che non so perché Affogava tutti gli oggetti che trovava Affogava i sassi Affogava le piante Una roba incredibile Ecco qua Si il Delongamer ha anche allevato una cornacchia Ok Dovremmo aver completato tutti gli obiettivi Ah Un'altra giornata di onesto lavoro Rompere le balle a tutta la gente Di questo cavolo di villaggio ragazzi È praticamente un lavoro a tempo pieno Perfetto Salve signore mi dispiace La devo salutare Purtroppo devo andare È stato un piacere rovinare la vita Sì ma non mi mandi via Almeno un po' di educazione Ok ok me ne vado Ci sono tanti altri abitanti A cui possiamo rompere le balle quest'oggi Non davvero sto gioco Lo sto adorando alla follia Le dinamiche sono semplici Ma il gioco è abbastanza complesso e divertente Ok non mi immaginavo che essere un oca bastarda dentro Potesse essere davvero così divertente Oh c'è un bambino che gioca a calcio Ciao piccolo bambino Vuoi essere mio amico? Ciao ti chiamano il piccolo Franco Ha paura di me Ma la cicchia dà paura di me Ma no Franco Franco vieni qua possiamo essere amici Vieni qua dai Guarda che fugge il bastardo Ma ha paura come la ci fosse domani Ma vergognati Franco Allora da questa parte abbiamo un mercatino all'aperto Ok di sicuro potremmo rubare un po' di cose alla signorina Guardate che roba Vende articoli di qualunque tipologia o ombrelli Eh vabbè Signora ma poi fa fattura lei Allora vediamo quali sono gli obiettivi da portare a termine Dobbiamo rompere la scopa Chiudere il ragazzo nella cabina Far sì che il ragazzo si metta gli occhiali sbagliati Cioè il livello di bastardaggine over 9000 Far sì che qualcuno ricompri le sue cose Andare in televisione e fare la spesa Dovete mettere nella cesta lo spazzolino La carta igienica La spazzola Il cibo in scatola Il detergente La frutta e la verdura Mi piace ci possiamo divertire un bel po' Allora vediamo un po' cos'altro c'è da questa parte Abbiamo un negozio pieno zeppo di televisori Come potete vedere Però non abbiamo modo di entrarvi Buongiorno salve Vorrei comprare un televisore però che Niente niente a quanto pare non mi degna di attenzione Però è pieno zeppo di telecamere come potete vedere Da questa parte invece c'è la cabina telefonica Però non posso aprire la porta in nessun modo Forse dobbiamo spingerci il ragazzino in qualche modo Cominciamo a terrorizzarlo fin dall'inizio E lui di solito va in direzione opposta Rispetto alla nostra posizione Ragazzino Vai a chiamare la mamma al telefono Di lì che c'è un bullo che ti sta rompendo le scatole Perfetto ci siamo quasi Ci siamo quasi Vai dentro Vai dentro Perfetto Ok ce l'abbiamo fatta Ok e ora resta dentro eh O ti becco dappertutto eh Ti smangiucchio le caviglie Porca di quelli per porca Perfetto Chiudere il ragazzo nella cabina Completato Aspetta sta chiamando la tizia del negozio Non mi dire che è sua madre Neanche a farla pota Mamma C'è un okamilmullis da qua fuori Vieni a darmi una mano Ti prego Non ci chiedo mai Signora Signora ne possiamo parlare Da persone amichevoli Da oca a oca Ehi vai via Mi dici quello che posso fare Per chi vuole per porca E io ti entro nel negozio eh Ti disfa tutto E ti cambio i canali sui televisori No che non vado fuori No mi ha chiuso la porta in faccia Ma come Bambino Bambino richiama la mamma Dille di aprire il negozio Ok sta andando a salvare il ragazzo Guarda guarda che mi manda via Sono ancora qui E percevate di esservi liberati di me Ha richiuso la porta Non ci credo mai nella vita E' bello essere un bullo E di nuovo che chiama la madre Mamma Mamma Ma era qua un metro in secondo fa Avanti signora Allora questa volta faccio finta di nulla Mi metto qua dietro l'angolo La signora non mi dovrebbe notare Va a salvare il bambino Perfetto E ora posso entrarle nel negozio Ok E passare indisturbato Allora c'è un pulsantino qua Che possiamo premere E posso andare in televisione Ciao mamma Guardami sono in tv Sono l'oca più famosa di tutta la città Nessuno mi può fermare Occhi di tutto il mondo Riuniamoci e conquistiamo il pianeta No mi butta fuori Ah E' colpa tua E' colpa tua Se tua madre mi ha buttato fuori Vieni qua Vieni qua Aspetta un secondo Non mi direi che posso attivare anche qualcosa Dell'acqua in qualche modo Ma no Volevo poter bagnare il ragazzino Allora Dobbiamo fare in modo che il ragazzo Si metta gli occhiali Sbagliati Il problema è che lo dobbiamo far abbassare Mmm Noto che il ragazzino Ha i lacci delle scarpe Molto evidenti Gliel'idea che ho slacciare in qualche modo Ragazzino Vieni qua Devo slacciarti le scarpe So che può sembrare una cosa da pervertiti Ma fidati lo faccio per il tuo bene Si ma se ti metti là dietro non vedo niente Vieni qua Ragazzino Perfetto l'ho bloccato in un angolino Arriviamo a testa bassa E ora gli possiamo slacciare le scarpe Ok Il mio malefico piano si sta portando a compimento Oh no si è abbassato per riallacciarle Maledetto Speravo di farlo cadere Probabilmente dopo che le abbiamo slacciate Lo dobbiamo spaventare ancora una volta Ciao piccolo Franco Ma che belle scarpine Sarebbe un peccato se qualcuno te le slacciasse all'improvviso E poi ti inseguisse Scappa Franco la mia e si abbiatterà su di te Perfetto è caduto Prendigli gli occhiali Prendigli gli occhiali Fuggo Fuggo senza un minimo di rispetto Ok non mi dovrebbe poter inseguire Dito che senza occhiali presumo non ci veda nulla Ok Furto portato a termine con successo Però la signora si sta triggerando No signora Signora metta giù la scopa Ne possiamo parlare Signora no Signora no Porca di quelli per poca Le lascio gli occhiali Le lascio gli occhiali Scusi eh Prendo un altro paio Mi dia un paio a caso Ok presi Li ho presi Li ho presi Li ho presi Fuggi Fuggi veloce Fuggi veloce Sarefiera Gli li vengo a pagare dopo Paga il piccolo Franco Paga il piccolo Franco Porco cane se li hai ripresi Quando o meno se li aspetta Tac rubati di nuovo Oh mio dio sono inarrestabile La mia cleptomania è over 9000 Aspetta un secondo Aspetta un secondo Diamoli a Franco Che magari poi consente di comprare Franco Franco prendi gli occhiali Veloce li ha presi Li ha presi incredibile No la signora si arrende Però abbiamo fatto in modo Che il ragazzo si mettesse Gli occhiali sbagliati Ma ci vedi bene Franco Ciao sono un cane Guarda come abbaio E Franco scappa via Ma porca di quelli per porca Aspetta che posso anche afferrare Questa bottiglia Vediamo se il rumore Risulto vattato Ma è bellissimo Vieni qua sono L'ho calcolizzata Porca di quelli per porca Vabbè lasciamo stare Che è meglio Signora Lei è proprio un bambino coraggioso Complimentoni Perfetto allora Franco sta andando a giocare a palla Allora gli occhiali non li ha pagati Ma forse Possiamo rubargli l'aeroplanino E metterlo in vendita Fra le cose della signora Dobbiamo stare attenti Perfetto Ora ci da le spalle Perché non vorrei che ci notasse E togliesse poi tutto Ok questo aeroplanino Lo possiamo lasciare qui Ottimo E' pieno zeppo di giocattoli Vediamo cos'altro possiamo fregare alla signora Allora dobbiamo anche fare la spesa Ci serve prima di tutto Una cesta per la spesa Che mi pare di averla vista Qua sotto Aspetta Ok questa la portiamo Da questa parte Non vorrei che la signora notasse il tutto E se lo venisse a riprendere Come aveva fatto il giardiniere Ok a posto Oh si accorta dell'aeroplanino Che fa L'ha messa in vendita Perfetto Sta puntando la scopa Signora salve Dovrei fare un po' di acquisti Porti pazienza Oh mi caccia via Mi caccia via Guarda che mi incacchio anch'io Le spacco fuori la scopa Ok Io l'ho data veramente Perfetto Ora voglio vederti come cavolo mi cacci Questo me lo porto via io Scusi Devo fare un po' di pulizia in casa Aspetta un secondo Ci sono i walkie talkie Vediamo un po' se forse possiamo utilizzarli Per attirare le persone da qualche altra parte Probabilmente se faccio il suono con un walkie talkie Verrà emesso anche dall'altro Vediamo un po' Sì Ok La mia idea funziona Possiamo distrarre praticamente chiunque Allora Direi di lasciare il walkie talkie da questa parte Perfetto Così mi sarà molto più semplice fare la spesa Signora Ha rotto le scatole però Lei quella cavolo di scopa è rotta peraltro Franco basta giocare a palla Vai a giocare con l'aeroplanino Ho visto che la signora di prima te l'ha rubato Ok Perfetto L'abbiamo spinto in direzione corretta No L'aeroplanino È un po' più a destra Ho capito che sei mezzo cieco Porca di quelli per porca Signora Stia buona che le porto clienti Nel frattempo io mi nascondo sotto il tavolo Ok Direi che l'ha visto Incredibile Signora Come ho visto sotto il tavolo Vado per le scatole da un'altra parte Guardi che c'è il ragazzino che ruba l'aeroplanino Signora C'è il ragazzino che le ruba l'aeroplanino Ok l'ha visto L'ha visto Io gli farei una bella multa Lo porterò direttamente in galera Ragazzino vuoi l'aeroplanino Sì ma l'aeroplanino è mio No guarda che non è tuo Guarda che lo vendo io Mi devi pagare dei soldi Vergognati Adesso lo vado a dire a tua madre No la mamma no Fa bene E tenga 20 euro A posto Far sì che qualcuno ricompri le sue cose Il mio piano malefico sta funzionando Nuovo elemento fra le cose da fare Dobbiamo chiudere la negoziante nel garage Aspetta un secondo C'era un garage effettivamente Qua in parte Vediamo un po' Forse posso aprirlo No io non ce la faccio Signora mi apre la porta del garage cortesemente Ok Perfetto Possiamo tirare la manopolina qui Aspetta un secondo Eh però lei entra solo per una frazione di secondo Allora facciamo un po' i fetentoni Proviamo a prendere qualcosa che serva a lei signora Guardi le ho rubato il cavolfiore qua Il sedano come cavolo si chiama Perfetto Glielo molliamo dentro Lei andrà ovviamente a recuperarlo Signora venga a recuperare l'oggetto Guardi che poi si rovina da terra Non lo può più vendere No sta disegnando un cartello Con le ocche qua non possono entrare Ma come Ma mi sono offeso tantissimo Era andata dentro in garage A prendere il gessetto Guardi che le rubo anche le carote Non ci sono problemi Devo fare il minestrone Porti pazienza Ok Ok Perfetto è dentro È dentro è dentro è dentro Veloce Veloce Tira la cosa Tira la cosa Perfetto 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 Chiusa dentro Ottimo Ora possiamo fare la spesa In tutta tranquillità La signora non può più uscire Chiudere il negoziante nel garage Olè Completa No ce la porta sul retro Dimmi che non l'hanno No l'ha aperta Non ci credo mai nella vita Maledetti umani E ora mi apre il cancello Da questa parte In modo tale che possiamo passare Al livello successivo Ma io ho ancora la spesa da fare Perché di quelli per porca Ci serve lo spazzolino La carta igienica E molto altro Poi allora la carta igienica La possiamo fregare Direttamente qua sopra Via 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 Ok non ho visto niente E ora devo divertirmi A mettere tutti gli oggetti All'interno del cestino Eh vabbè ma ci vorrà una vita Qua sopra abbiamo la spazzola Che ci serviva Ottimo La signora non so dove sia finita Quindi per adesso possiamo continuare I nostri furti Mi serve del detergente E del cibo in scatola Allora il cibo in scatola Credo che sia questo Oh oh Credo che mi abbia visto Forse non mi ha visto Molla tutto qua Casomai la distrago io in qualche modo No Sembra che il nostro piano malvagio Stia funzionando E abbiamo il cibo in scatola Ottimo Ah signora Si è bloccata la scopa In mezzo alle gambe Signora cosa sta facendo Ma avanti Ma si vergogni Porche di quelli per porca Ah questo credo che sia il detergente C'è il simbolo della gocciolina verde Abbiamo buggato la signora Franco Porche di quelli per porca Mi hai fatto spaventare Vai via eh Che ti picchio male Ma porco Cani di questi franco Che non hanno un minimo di rispetto Per chi sta derubando Allora per la frutta Abbiamo le arance Direttamente qui E per la verdura Dopo ruba la signora Una bella carotina La signora si accorta Che le mancano degli oggetti Ma dove sono finiti Ma li avevo in vendita Da qua porche di quelli per porca Allora mi mancano alcuni oggetti E ho visto che qua C'è un cestino Abbastanza sospetto Il detergente Lo potevamo recuperare Anche da qua Vediamo se posso Tirare giù tutto Ole A posto Vediamo un po' Cosa troviamo all'interno Oh eccolo qua Lo spazzolino che mi serveva No il torsolo di mela No grazie Ho già mangiato Perfetto Questo è l'ultimo oggetto Nella lista della spesa Signora Sta ancora recuperando Tutte le verdure del garage Ma si vergogni Non ci resta che mettere Nel cestino della spesa Et voilà Abbiamo completato Tutti gli obiettivi Sì 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 Proprio tutti tutti Ottimo Quindi possiamo proseguire Verso il prossimo livello Signora Complimenti Una bellissima attività È stato un piacere conoscerla E a proposito Guardi che Franco Continua a rubare le cose Buono dai Io direi che per questo episodio Ci possiamo fermare qua Anche perché la gente Si sta armando di torce e forconi Perché a quanto pare Mi vogliono fare allo spiedo Quindi ricomenti Fatemi sapere cosa ne pensate Se volete un altro episodio Vi dicendo Lasciate un bel video Di una serie Candidate a crescere E noi ci vedremo nel prossimo episodio O eventualmente Se vedete un'oca Che vi sta puntando Chiaramente È il DeLongamer E state per passare Un brutto quarto d'ora Ciao ciao